Beh sì, modestamente sono un bel gene dell'energia. E se ci vediamo ti do qualche buon consiglio. Facciamo a casa tua? Sì, l'elettricità la porto io, ma poi magari spegniamo la luce. Pronto? Pronto? Tutte le volte così sono proprio scorso. Amga Energia e Servizi. La scelta geniale per il gas e l'energia elettrica.